E non ha mai viaggiato in seconda classe sul rapido Taranto Ancona Allora ho saputo una cosa me l'ha suggerito qualcuno di voi si possono fare le dirette usando le canzoni se uno le interrompe ci parla sopra abbassa il volume che è una cosa odiosa io odio quelli che quando c'è una bella canzone ci parlano sopra no quando eravamo ragazzini alcuni dj radiofonici facevano sta cosa io l'avrei ammazzati parlavano sopra una bellissima canzone una cosa scorretta sbagliata ingiusta poi da ragazzini magari era un po difficile a volte procurarsi le cassette dischi allora si chiedeva una canzone alla radio e poi la registravamo e se il dj ci parlava sopra c'erano queste registrazioni sopra quindi mi sto facendo antipatia da solo però così posso sfruttare questa canzone qui anche se non è un caso se ho messo questa canzone perché oggi è sì la festa della repubblica una data molto importante per tutti noi ma è anche purtroppo il 39esimo anniversario se ben ricordo mi pare fosse il 1981 della morte di questo grande artista italiano meridionale il crotonese Rino Gaetano e questa è una delle sue canzoni delle sue canzoni e una delle mie preferite saluto tutti voi adesso iniziamo a fare i saluti uno per uno già vedo che siete 1600 oggi bene tanti adesso parleremo di report parleremo di un sacco di cose iniziamo a salutare maurizio camilleri roberto cosentino il grandissimo riccardo mureddu chi c'è nana iovi maria friella longo rosa gervetti antonio gussio sabina mignogna ciao daniela cami maria vincenza sorce ciao roberto quarnetti angelo agli annelli valentino patrizia pellegrino grazie benedetto bruno nel frattempo continuiamo a ascoltare la canzone di Rino Gaetano che va a sfumare per me è stato un onore nel 2017 tre anni fa non solo presentare il Rino Gaetano dei saluto Peppe Ragusa saluto Francesca Emanuela Pisano ma oltre a presentare Rino Gaetano dei ho cantato due canzoni con la Rino Gaetano band voluta dalla sorella di Rino dove canta anche il nipote di Rino e devo dire che è stato molto emozionante cantare davanti a oltre 30.000 spettatori volevo beccare quel filmato aprire con quel filmato non l'ho ancora beccato poi magari lo mettiamo dopo oppure ve lo ve lo rigiro c'è sulla mia pagina facebook solo che nel frattempo fra dirette video campagne elettorali eccetera è andato molto indietro ciao Silvana Corbo ciao a Piero Cannizzaro ciao a Giulia Maione Gabriella Lilliu Angelo Sciaiola col quale ci siamo anche già sentiti oggi salvo Stancanelli ciao a Carmela Scuderi a Lollo Pannunzi a Sebastiano Rodelli da Trecastagni a Salvatore Lorefice a tutti voi a Mirko Dentici Cesare Barrovecchio Maria Razzanelli ciao a Jet Luce di Mario Troisi ieri report fantastico sul guappo o sceriffo puntata ieri di report su De Luca ne parleremo al volo anche se oggi le cose da di cui parlare sono altre ciao a Pablo Robino eh sì Marisa Ceron ha ragione questa situazione grottesca e prepotente sta iniziando ad inquietare ciao a Stefano Sarcinelli vedete Stefano Sarcinelli è un attore così come Angelo Sciaiola lavora ha sempre lavorato nel mondo dello spettacolo ha fatto teatro televisione cinema Stefano Sarcinelli è uno dei tanti delle oltre 150 mila lavoratori italiani che hanno avuto grandi difficoltà da quando esiste no solo quelli dello spettacolo sono 150 mila milioni di lavoratori italiani che hanno avuto enormi difficoltà da quando esiste purtroppo il coronavirus ecco io credo che quello che è successo oggi anticipo ciò di cui parleremo di qui a breve quello che è successo oggi è davvero una vergogna infinita dopo che per mesi gli italiani stanno facendo grandi sacrifici per limitare il contagio per superare questo maledetto virus che tanto male ha fatto sia alla salute che all'economia che alla psiche che a tanti altri aspetti della vita sociale di ciascuno di noi il centrodestra indice una manifestazione proprio il giorno del 2 giugno parleremo anche di questo ma soprattutto in questa manifestazione c'è un assembramento di credo qualche migliaio di persone assembramento assoluto cioè al pub in pizzeria in al bar la mattina non ci possiamo mettere vicini neanche marito e moglie perché ti dicono guardi non lo sappiamo se siete veramente marito e moglie fidanzati un fidanzato è stato una coppia di fidanzati sono state è stata multata perché il fidanzato ha abbracciato la fidanzata 400 euro di multa e poi in piazza gli esponenti delle istituzioni deputati senatori hanno leader di partito hanno l'ardire la maleducazione assoluta violenta e schifosa di creare un assembramento di farsi i selfie senza mascherina vedete la maschera anch'io l'ho tolta adesso ma questa è la mia stanza e sono da solo da solo nella mia stanza al parlamento europeo di bruxelles io sono da solo per questo non indosso la mascherina che è obbligatoria per entrare qui in parlamento e può essere tolta solo quando si è isolati nella propria stanza nel proprio ufficio oggi è venuto prima è passato a salutarmi fabbio massimo castaldo nostro bravissimo europarlamentare aveva la mascherina indosso entrato in stanza con la mascherina e rimasto con la mascherina per l'estrema correttezza ebbene abbiamo dei rappresentanti delle istituzioni che organizzano una manifestazione dove tutti si assembrano e si fanno pure i selfie senza la mascherina questo è il livello di analfabetismo istituzionale che dimostra salvini e che con mio stupore dimostra altrettanto giorgia meloni la russa non è una novità l'ho visto anche lui in piazza insomma io vi chiedo davvero ma che coscienza avete ma dove come vi passa per la testa il giorno della festa della repubblica di fare qualcosa di simile ne parliamo a breve saluto sabrina fistarol flavia minichino ciao flavia la nostra grande attivista della provincia di napoli michela bettanini manuela malu giuseppe borgo nuovo saluto maria rosaria mollicone il grande massimo amoroso pietro leocata parliamone pietro delle cose che dici mille euro per pensioni minime decantati dal de luca non so cosa ti riferisci saluto domenico turillo detto mimmo turillo franco todaro riccardo pennetta elisabetta perrotta forse sì elisabetta perrotta chiede ci sono gli estremi per denunciare la becera destra in piazza che mette a rischio la salute pubblica allora io non so da un punto di vista istituzionale se ci sono gli estremi per denunciare un esponente politico un parlamentare per quello che è successo oggi se ci sono mi auguro che lo si farà potrei farlo persino io tranquillamente sicuramente le persone che si sono accalcate potrebbero essere multate perché vorrei capire visto che la legge è uguale per tutti per quale ragione non si può andare a teatro non si può fare uno spettacolo teatrale non si può abbracciare la fidanzata non si può prendere un caffè vicini nemmeno con proprio figlio con la propria fidanzata con la propria moglie con proprio marito con le persone con cui magari si convive in casa ma non puoi prendere un caffè vicino perché i baristi con molta i gestori dei bar dei ristoranti con molta correttezza vi dicono guardi non si può mi dispiace però non possiamo non potete farlo cioè questo è il livello di scrupolosità di correttezza di attenzione a evitare il contagio della stragrande maggioranza degli italiani in particolare degli esercenti italiani che ringrazio per la loro disciplina ebbene poi arrivano dei pazzi e fanno le cose del genere non solo l'ha fatta ieri quel pazzo totale cosiddetto generale pappalardo che ha fatto quei video in cui dice che lui ha incontrato un alieno che era alto due metri ed era andato lo so faride col cappello con la sciarpa non è una battuta ho visto sto video pensavo che fosse uno scherzo invece no è un video che mi ha fatto avere la grande gisella ruccia giornalista del fatto quotidiano appassionata di di trash di mitomani di queste cose qui mi aveva mandato un video aveva pubblicato un video con il generale pappalardo che parlava del fatto del suo incontro con un alieno alto due metri col cappello la sciarpa è un impermeabile grigio giuro che lo trovate e che gli aveva detto che lui gli dava una sorta di lettera perché lui generale pappalardo era un uomo quindi l'alieno veniva da chi sui 7 8 miliardi di persone andava dal generale pappalardo in campagna fra roma e l'abruzzo in tutto questo il generale pappalardo ieri ha fatto una grande cazzo ridiamo almeno per una prima di incavolarci di arrabbiarci perché sono cose molto serie di cui parlare oggi ci facciamo quattro risate con la cazziata fatta dal generale pappalardo a basco rossi lo insulta e gli dice a basco rossi che non vale niente è un cantante di seconda classe figure basco rossi ma che ha avuto un po di successo solo perché comunista legato al pc peraltro informo il generale che il partito comunista italiano non esiste più se ben ricordo dal 90 91 quindi da 30 anni circa non esiste più il pc non esiste più il pc non esiste più da allora ebbene il generale pappalardo fa una cazziata a basco rossi gli dice che un cane che invece lui è un grande musicista e verrà ricordato nella storia di basco rossi si dimenticheranno tutti e poi gli dice tu sei famoso solo perché sei andato un po in televisione io peraltro basco in televisione non è che me lo ricordi così tanto abbastanza raro la presenza di basco in tv basco ha fatto dei dischi meravigliosi io sono stato sono un suo grandissimo ammiratore alcuni dei dischi erano particolarmente belli come non siamo mica gli americani ma cosa vuoi che sia una canzone va bene va bene così ne ha fatti tanti molto belli il grande basco rossi siamo andati a tanti concerti da ragazzo e non solo insomma anche da grande ebbene no basco rossi è un cane e il grande musicista del generale pappalardo però finché è un signore che incontra gli alieni alti due metri con l'impermeabile il cappello e la sciarpa che gli danno il testamento degli alieni lì beh insomma uno si incazza perché il contagio riguarda gente furba e gente stupida intelligenti e deficienti persone per bene e criminali il contagio non guarda in faccia nessuno il virus non è che va a toccare il ricco il povero lo stupido il bravo l'intelligente l'onesto il disonesto il virus colpisce tutti gli esseri umani come è logico che sia quindi anche quando c'è un assembramento promosso da persone imbarazzanti nella loro nella loro pochezza generale pappalardo seppure candidato alle elezioni in umbria e ha preso mi pare lo 0,1 per cento una roba imbarazzante finché lo fa lui uno si incazza perché il virus così rischia di tornare alla grande e di farci chiudere di nuovo tutta l'italia quindi mi incazzo come un animale sia chiaro poi a milano poi a milano dove c'è già un problema reale ci sono stati dei contagi come sapete e quindi non è proprio la città adatta ma insomma il generale pappalardo lo sappiamo è quello che incontra gli alieni alti due metri con l'impermeabile ma salvini che è stato ministro che è senatore che è stato europarlamentare che ha campato solo di politica in vita sua non ha fatto altro e la meloni che attualmente c'ha il culo in due poltrone perché consigliere comunale è anche parlamentare della repubblica quindi ha due poltrone per un solo culo giorgia meloni ebbene voi siete rappresentanti le istituzioni giorgia meloni lo è doppiamente perché appunto è seduta in due istituzioni diverse importante il parlamento italiano è il comune di roma il più grande d'italia bene come vi viene in mente di pensare soltanto di fare una manifestazione il giorno della festa della repubblica una manifestazione di protesta con assembramento assurdo incontrollato imbarazzante che rischia di far tornare il contagio peraltro in una città come roma dove anche grazie all'ottima gestione della crisi da parte di virginia raggi non ci sono stati grandi contagi a differenza di milano del grande sindaco sala di bergamo del grande sindaco cori e di tutta la lombardia gestita malissimo dalla giunta di centrodestra di fontana e gallera roma ha retto molto meglio molto meglio come è noto ci sono stati contagi molto limitati a roma ma noi possiamo bruciare tre mesi di quarantena di lockdown di bar chiusi di ristoranti chiusi di cinema chiusi di sacrifici di difficoltà pure andare a trovare la mamma che non sta bene la fidanzata il marito la moglie i figli no la bruciamo perché quelli devono fare la manifestazione e stanno tutti stretti come pazzi come se non fosse successo niente io amo le manifestazioni ne ho fatte centinaia nella mia vita di manifestazioni ma non si fanno eccezioni quando ci sono ancora chiusure ripeto non si può andare in pizzeria stare vicini così non si può stare al bar vicini così non si può stare al ristorante vicini così vorrei capire con quale criterio si fa una farsa una buffonata squallida e ridicola come quella fatta oggi da salvini e meloni e da tutte le persone che sono andate perché io che sono del movimento 5 stelle non è che se il leader politico del movimento 5 stelle o se un mio amico un mio collega una persona che stimo del movimento 5 stelle indice una manifestazione in pieno lockdown quando ancora perché domani si incomincia la vera riapertura la prima riapertura quando siamo ancora con grandi difficoltà quando siamo ancora costretti a fare la fila per andare al supermercato fare la fila per andare al bar a fare la fila per andare dappertutto in ferramenta dappertutto siamo noi facciamo la fila cittadini per bene e quelli mi organizzano una manifestazione se lo facesse uno dei 5 stelle primo io gli direi amico mio stai sbagliando e infatti non è capitato voglio dire non a caso nessuno dei 5 stelle gli è venuto in mente di fare una manifestazione e tutti gli incontri che stiamo facendo compresi quelli che faccio con alcuni di voi li stiamo facendo a distanza non a caso io sto facendo ho iniziato questa tradizione di queste dirette perché non posso tornare giù e mi piacerebbe c'era l'anniversario dell'elezione di un anno fa c'erano tante cose da fare in questi tre mesi discorsi rimasti in sospeso gli stati generali del movimento fondamentali oggi più che mai li abbiamo rimandati per senso di responsabilità perché non ha senso oggi compiere questa veramente quest'atto quasi sovversivo sbagliato nel momento più sbagliato del mondo è chiaro che ci sarà una denuncia è chiaro che ci sarà una denuncia il problema è come sapete i parlamentari hanno una situazione particolare da un punto di vista delle immunità del insomma hanno bisogno di autorizzazioni per determinati per determinate situazioni per determinate accuse il problema è un altro tutta quella gente lì perché capite la gente che è andata là e magari è un elettore della lega o di fratelli d'italia e ha tutto il diritto di votare per chi vuole ma non capisce che sta facendo del male a se stesso che sta facendo del male all'italia le persone che sono andate là a ora mi rivolgo non vi rendete conto dell'errore che avete commesso della cazzata clamorosa che avete fatto ve ne rendete conto o no temo probabilmente che non se ne rendano conto siete andati a mettere a repentaglio la vostra vita e quella di tutti gli altri perché se voi lì vi siete contagiati perché stavate io ho visto le foto stavate tutti stretti attaccati come sardine altro movimento che lasciamo perdere stavate stretti attaccati proprio come le sardine e proprio come le sardine vi siete dimostrati totalmente inadeguati ad affrontare la realtà perché se voi aveste avuto un minimo di coscienza non dovevate andare a questa manifestazione o una volta arrivati vedendo che c'erano queste distanze non rispettate c'era la gente altro che distanza di un metro un metro e mezzo stavano accalcati in un altro avrete visto le foto io ne ho pubblicata una dove salvini si fa pure il self senza mascherina abbracciato guancia guancia con una signora che sta senza mascherina ma signori ma così buttiamo a mare tre mesi di sacrifici ve ne rendete conto o no io non mi chiedo che coscienza politica ci sia che 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 senso ha essere rappresentanti delle istituzioni se ci si comporta così che buon esempio dai il delanni dai il cattivo esempio e ti porti da presso tiri visto che magari ci sono persone che in buonissima fede votano per questi partiti e ci mancherebbe altro hanno tutto il diritto di farlo di votare chi volete viva la democrazia viva la pluralità dei partiti ma non in piazza in questi giorni non in piazza in questi giorni non questi assembramenti quando tutti stiamo facendo ancora oggi sacrifici e li abbiamo fatti per tre mesi vi rendete conto che rischiate di creare un focolaio a roma lo avete saputo che la partita atalanta valencia che fu una delle ultime se non l'ultima giocata a porte aperte con lo stadio aperto è stata una delle ragioni del grave contagio di bergamo una delle ragioni è stata proprio quella partita lì 40.000 bergamaschi allo stadio tutti stretti uniti come stavate oggi in piazza lì voi del centro-destra ma vi rendete conto della pericolosità uno solo positivo al coronavirus oggi potrebbe avere contagiato centinaia di persone le quali a sua volta diventano veicolo del virus vanno a casa e magari contagiano la moglie la figlia il marito i genitori che sono anziani ancora peggio cioè vi rendete conto della gravità di questo gesto io vi devo dire la verità sono stupito perché per una volta io non amo come sapete twitter quel mezzo quel social che non mi piace però oggi prima di iniziare questa diretta ho guardato su twitter e devo dire che c'erano tutti i giornalisti che di solito sono molto buoni ci hanno sempre vi faccio il gesto come fece una volta l'allenatore dell'ex allenatore della roma garcia no il il gesto del violino della sviolinata sono tutti pronti a sviolinare la meloni santa meloni salvini santo salvini lo zio lo zio il cugino di giletti non so perché se giletti è zio della figlia di salvini vuol dire che è fratello il fratello di giletti matteo salvini è sempre trattato molto bene dalla nostra stampa oggi per da quei giornalisti mainstream che vogliono restare lì e allora non si mettono mai contro il potere vero si mettono contro i cinque stelle contro di maio contro buona fede contro i rompicoglioni sì perché siete dei leccaculi contro salvini mai perché sai salvini poi magari diventa presidente del consiglio diventa ministro e allora è meglio che me lo tengo buono perché è un ministro che dà concessioni buona fede no se anche me lo tengo buono quello farà la sua strada di maio no se anche me lo tengo buono quello va dritto per la sua strada quindi mi alliscio salvini ebbene mi ha stupito ma oggi anche i più grandi allisciatori di salvini erano molto severi su twitter sui social perché la buffonata che ha fatto oggi il centrodestra è un affronto agli italiani un vero e proprio affronto agli italiani agli italiani che hanno fatto sacrifici e che ringrazio e che hanno fatto davvero hanno rinunciato davvero a tanto della propria vita privata del proprio denaro del proprio futuro dei propri incassi della possibilità magari di andare avanti e dare un futuro ai propri figli e alcuni di loro sono stati particolarmente sfortunati c'è gente che si era aperto un'attività a febbraio che aveva aperto la partita iva che aveva aperto un bar che aveva aperto un esercizio commerciale e ora in un mare di guai voi sappiate salvini meloni e tutti quelli la russa e tutti quelli che sono andati lì gli avete pre gli avete dato uno schiaffo in faccia agli italiani gli avete dato uno schiaffo in faccia totalmente immeritato soprattutto agli italiani che sono la stragrande maggioranza che si erano comportati bene che si sono comportati bene che si comportano bene per evitare il contagio gli avete sputato in faccia è una cosa veramente inaccettabile e permettetemi di dire sì purtroppo massimo amoroso mi ricorda che massimo amoroso che saluto mi ricorda che anche molti siciliani hanno fatto lo stesso permettetemi di dire una cosa la cosa più schifosa come diceva benigni diceva un'altra cosa che non posso dire la cosa più schifosa di oggi è che tutto questo l'avete fatto il giorno della festa della repubblica io ho pubblicato una foto oggi sono andato a trovare la bandiera italiana fra le altre bandiere degli stati membri qui d'europa per ricordare che ci sono e come me ci sono tanti colleghi bravi del movimento 5 stelle e non solo devo dire sono parlamentari europei validi anche in altre forze politiche non ho nessun problema a riconoscerlo oggi è la nostra festa e la festa della repubblica in un momento così delicato la festa della repubblica di solito prevede la la celebrazione a via dei fori imperiali con il presidente della repubblica con le forze armate che sfilano con enormi motivi misure di sicurezza diamo l'idea della compattezza della forza ebbene per la prima volta dopo tantissimi anni oggi non si è fatta la sfilata il presidente mattarella non ha potuto ammirare il presidente conte presidente del consiglio non hanno potuto ammirare le forze armate e tutto quello che normalmente avviene il 2 giugno perché una festa della quale dobbiamo essere orgogliosi così come dobbiamo essere orgogliosi del 25 aprile la repubblica nasce dalla resistenza la repubblica è la risposta alle dittature abbiamo capito che tutti quegli italiani che hanno creduto in una dittatura hanno sbagliato e che non c'è più spazio per le dittature e con il referendum la repubblica vinse contro la monarchia ed è giusto così perché la monarchia è nasce da un principio totalmente sbagliato e cioè che a seconda di chi sono i miei genitori quando vengo al mondo ho più diritti di un altro anzi ho il diritto di supremazia di governare gli altri per asse ereditario pensate che idea barbara che idea veramente antiquata tribale totalmente insensata e l'italia ha risposto alla grande dopo la seconda guerra mondiale con un referendum dove ha vinto la repubblica e oggi celebriamo la nascita della repubblica celebriamo la festa della repubblica la festa della repubblica viene macchiata da parlamentari della repubblica che scelgono innanzitutto ma perché non la facevate il 5 giugno la facevate sabato la facevate domenica la facevate la prossima settimana la facevate quando tutti gli altri possono accogliere nel loro ristorante nel loro negozio nel loro centro commerciale nel loro parco nella loro ludoteca hanno chiuso le ludoteche i bambini non possono andare nelle ludoteche i lavoratori delle ludoteche sono in enorme difficoltà e così vivai e così tantissime attività commerciali ma perché non aspettavate correttamente che dal punto di vista della delle regole ci fosse il protocollo di apertura perché non avete atteso un'altra settimana per fare la manifestazione perché avete voluto infangare la festa della repubblica manifestando contro il sacco contro il governo contro cosa nel non rispettando le regole della repubblica perché le leggi sono regole della repubblica sono regole di funzionamento della repubblica vivite patrioti io vorrei vorrei capire questa cosa qua perché io mi cavolo è allora la meloni si dice patriota il tricolore no sappiamo quel da le origini culturali di quella destra lì che dovrebbe essere moderna temo proprio che non lo sia la russa meloni personaggi di questo genere va bene siete patrioti io amo moltissimo la mia patria io mi sento davvero patriota perché amo l'italia che è uno stato democratico fatto di persone per bene di lavoratori eccetera eccetera senza fare troppa retorica mi piace l'italia anche quando quando ero bambino quando c'era la nazionale mi ricordo che la tifavo più ancora di quanto non ti fassi per il catania che la mia squadra del cuore perché mi emozionavo molto a vedere le partite dell'italia e così come le olimpiadi così come qualunque altro sport e così come quando mi capitava magari di andare all'estero mi vantavo molto di essere italiano perché credo che l'italia sia un posto straordinario ora io vorrei sapere una cosa perché io ci tengo alla coerenza e lo chiedo a voi perché forse sono io che non capisco la meloni che si dice patriota e con lei tutta quella retorica di destra fatta di tricolore di orgoglio patriottico eccetera eccetera stanno insieme a uno che diceva con il tripulore scusate con il tricolore mi ci pulisco il culo lo ha detto decine di volte c'è anche la un tweet ho visto un sì mi pare fosse tweet di qualche anno fa dove salvini il 2 giugno diceva non c'è niente da festeggiare salvini con le magliette padania is not italy salvini che parlava di pulirsi il culo con il tricolore oggi in un curioso una curiosa nemesi lo vedo con il tricolore in faccia e allora vorrei capire se questa è un'autodenuncia da parte di salvini che uno dice mi pulisco il culo col tricolore poi si mette il tricolore in faccia allora vorrei capire è un'autodenuncia la tua rispetto alla faccia che hai come oppure è satira involontaria oppure hai cambiato idea e se hai cambiato idea ce lo vuoi dire perché noi siamo italiani e non abbiamo mai detto niente contro il tricolore non abbiamo mai detto che un pezzo d'italia non era italia come hai fatto tu non abbiamo mai detto io non ho mai detto settentrionali merda o meridionali merda o sardi o pugliesi o lombardi o veneti o marchigiani non mi sono mai messo a insultare nessuna persona per la sua provenienza geografica voi lo avete fatto avete avuto un consenso largo grazie al sentimento antimeridionale che avete continuato a stuzzicare e a stimolare e umberto bossi fino a pochi mesi fa in un incontro anche se ormai diciamo a condizioni di salute precarie ma in un incontro dove c'era anche salvini ha detto che i meridionali non gli piacciono che bisogna pensare al nord eccetera eccetera per non dire di peggio e vittorio feltri che avete proposto come presidente della repubblica con sprezzo del ridicolo ha detto che i meridionali sono inferiori e la chirico grande amichetta di salvini che parla sempre nei talk bene di salvini qualunque cosa fa salvini stava con renzi poi si doveva candidare la doveva candidare renzi non la sapete voi questa storia se non la sapete ve la racconto io la chirico doveva essere candidata da renzi perché alle elezioni del 2018 mentre il movimento 5 stelle ha fatto le parlamentarie quindi poi possono piacere non piacere chi vinceva le parlamentarie prendeva un posto in lista al proporzionale poi sugli uninominali sono state delle scelte fatte dai vari nelle varie regioni ma noi almeno abbiamo avuto la democrazia cioè le cosiddette noi richiamiamo parlamentari cioè le primarie online fatte su russo invece renzi ha deciso tutto lui nel pd prima aveva perso il referendum ha detto se perdo il referendum smetto con la politica è una questione di serietà smetto per sempre con la politica risultato è rimasto in politica è rimasto segretario del pd è andato alle elezioni del 2018 dicendo che l'avrebbe vinte sarebbe stato il primo partito pensate che aderenza alla realtà c'ha quell'uomo lì e ha fatto lui tutte le liste quindi decideva lui chi veniva letto e chi no è chiaro e la chirico doveva essere in lista con il pd nei mesi precedenti era andata alla leopolda era andata alla terrazza del nazareno a fare delle dirette facebook che faceva 4500 persone oggi adesso siete già 3700 vi ringrazio mi auguro che arriveremo a 4000 condividete questa diretta mi sono dimenticato di dirlo ecco la chirico che doveva andare con renzi poi renzi non l'ha candidata lei c'è rimasta molto male non solo lei e renzi aveva promesso anche ad altre persone di essere candidati e adesso è l'amichetta di salvini e dice i meridionali sono moralmente inferiori ora io vi dico cari amici non soltanto meridionali ma anche settentrionali anche del centro italia di qualunque zona d'italia amici che avete a cuore come dire il progresso l'intelligenza la correttezza sociale io non dico che bisogna essere a tutti i costi politically correct o mosci ma non vi vergognate di votare un partito che ha fondato sul razzismo antimeridionale le sue prime fortune e che ancora oggi viene spinto da questo sentimento di razzismo nei confronti del meridione d'italia non vi vergognate di votare un partito così un segretario che diceva padani es not italy colerosi terremotati diceva i napoletani avevano i manifesti ricordo a bolzano quando io ero a 20 anni 19 20 anni avevo un collega un caro amico collega di università di bolzano andai a trovarlo e c'erano questi cartelli mi ricordo tipo la padania era la gallina dalle uova d'oro e poi c'era scritto napoletane sì napoletani napoletani pugliesi calabresi siciliani lucani raus andate a casa non vi vogliamo tornate a casa vostra queste cose così così parlavano dei meridionali e a distanza di 25 anni ancora oggi fanno leva su quel sentimento antimeridionale ma dico non vi vergognate a votare una forza politica del genere non vi vergognate a votare qualcuno che mentre tutti noi abbiamo fatto sacrifici per tre mesi in alcuni casi restando in ginocchio perché io non dimentico che ci sono persone che dal punto di vista economico sono messe in ginocchio dal coronavirus e gli aiuti dello stato ci sono ne arriveranno altri arriveranno i soldi europei ma comunque il coronavirus è stato una massacro c'è gente che ha perso la vita decine di migliaia di italiani che ha perso il lavoro purtroppo migliaia di italiani e così via e tu gli fai una tagliata di faccia uno sfregio così grande di organizzare il giorno della festa della repubblica una manifestazione che infrange le leggi della repubblica io vi invito a fare due più due perché davvero e soprattutto mi chiedo come faccia giorgia meloni con che faccia si presenti accanto a uno che diceva col tricolore mi ci pulisco il culo stai a fare la retorica della patria la patria unita la patria è una la patria è sacra e poi mi pulisco il culo col tricolore la padania non è italia e compagnia chi non salta italiano è ricordo ai raduni della lega che si cantava chi non salta italiano è e vi ricordate addirittura allora un ministro castelli cantò chi non salta italiano è e saltava cioè questo è il livello di questi personaggi e davvero mi dispiace che abbia prevalso quest'anima della lega perché io mi rendo conto che nella lega c'è sempre stato anche un animo come dire antisistema una parte di elettori antisistema ma mi pare che abbia fallito quell'animo della lega quella parte della lega diciamo che aveva come primo come primo interesse quello di cambiare il sistema di partiti la lega è perfettamente addentro il sistema dei partiti quelli che ci sono e quelli che c'erano prima perché la pivetti che è stata presidente della camera della lega voluta dalla lega la pivetti è invischiata nei pessimi affari che abbiamo visto delle mascherine non solo e furgiuole consigliere della lega rappresentante la lega in calabria è indagato per robe di indrangheta lo sapete ed è stata anche la lega a votare i vitalizi per chiunque sia stato anche un solo giorno al al alla consiglio regionale della calabria diciamole queste cose facciamole venire fuori così come facciamo venire fuori la nostra rabbia e la nostra civile mi raccomando protesta nei confronti del fatto che si chiede agli italiani il sacrificio si chiede di stare a casa e poi si organizza il 2 giugno una manifestazione a roma dove la gente stava stretta a contatto di gomito perché davvero non lo posso accettare questo non sapete quanti messaggi abbia ricevuto oggi su questo e vi dirò di più e poi chiudo e passiamo a un altro argomento giustamente daniele marocca dice le forze dell'ordine dove erano sono d'accordo secondo me bisognava essere molto più severi e mi chiedo con quale criterio è stata autorizzata questa manifestazione se mi se posso permettermi lo dico con rispetto il ministero dell'interno avrebbe dovuto rimandarla non a non autorizzarla a oggi così come non sono stati autorizzati esercizi commerciali non sono stati autorizzati tantissimi anche come dire c'è stato l'obbligo di bloccare anche tantissime attività produttive persino all'aperto persino nell'agricoltura i raccolti eccetera allora oggi sarebbe stato doveroso non autorizzare questa manifestazione a mio parere sono davvero dispiaciuto sono davvero arrabbiato e penso che sia giusto e doveroso far sentire la nostra avversione nei confronti di Salvini e della Meloni la cosa più triste è che poi questa manifestazione è stata anche fatta in piccolo in altre in altre città italiane non soltanto a Roma e non so se avete notato che ultimamente c'è tanta gente del movimento 5 stelle cambiamo così argomento poi nel frattempo rispondo alle vostre domande c'è tanta gente del movimento 5 stelle che si si autodefinisce il portatore della verità il portatore dei valori del movimento il vero grillino i veri grillini e firmano gli appelli eccetera ora poi dice perché tu certi appelli non li ha firmati beh non li ho firmati perché fra i veri grillini c'erano tutti quelli che hanno votato in dissenso tutti quelli che non restituivano tutti quelli che gli prudevano le mani e volevano andare altrove ebbene oggi a proposito di veri grillini uno di quelli che fa il vero grillino e ancora oggi condivide su facebook perché l'ho visto condivide su facebook alcune cose di alcuni portavoce del movimento non di tutti di alcuni portavoce del movimento ebbene ci sono persone che si sono fatte il loro partitino pensate pensate la coerenza umana sono state lette con questo simbolo simbolo del movimento 5 stelle se ne sono andate magari capolista quindi così è più facile arrivare primi se ne sono andate dal movimento si sono fatte il loro partitino continuano a dire che i veri depositari del movimento sono loro ogni tanto condividono cose solo di alcuni portavoce del movimento i loro amichetti che gli hanno permesso tutto questo anziché essere segnalati ai probbividi come avrebbero dovuto gli hanno permesso di fare un inquinamento di infiltrare il movimento con atteggiamenti filoleghisti soprattutto con atteggiamenti imbarazzanti c'è ancora oggi lo denuncio pubblicamente nelle chat del movimento 5 stelle di catania una persona che ha attaccato pubblicamente gli ebrei e che ha detto che hitler almeno ci aveva provato ma quelli sono tornati questa persona è tutt'oggi nelle chat del movimento 5 stelle di catania faccio appello a tutti gli amministratori di quelle chat per allontanarlo e tutt'oggi condivide i contenuti di alcuni soltanto di alcuni portavoce sono felice di non essere uno di loro di non essere condiviso mai e di essere sempre attaccato e avversato da sedicenti attivisti che dicono che gli ebrei comandano il mondo e che hitler almeno ci aveva provato e se fossi uno di quei portavoce che viene esaltato da questa gente mi preoccuperei molto perché vengono esaltati non soltanto da questo da questi che propongono queste teorie vergognose e razziste nei confronti degli ebrei addirittura parlano quasi bene di hitler dicendo almeno ci aveva provato hitler vi rendete conto di dei personaggi squallidi che possono provare a infiltrarsi in un movimento sano come il movimento 5 stelle bene non soltanto ci sono questi ci sono quelli che si sono fatti l'altro loro partitino e alcuni di loro continuando a dire che loro sono i depositari della verità del movimento oggi sono andati a manifestare contro il governo con tanto di cartello ma io dico va la sera quando la sera la mattina il pomeriggio quando vi fare a voi quando vi guardate allo specchio un pochino schifo vi fate o no chi ha organizzato tutto questo portavoce del movimento che avete organizzato tutto questo ma un pochino schifo vi fate o no io al posto vostro non ci potrei essere perché ho una coscienza molto forte che mi avrebbe impedito di fare cose così schifose ma voi un pochino schifo lo ripeto per la terza volta vi fate o no ce l'avete una coscienza o no lo capite che state rubando i voti la fiducia il futuro di milioni di italiani che hanno votato per il movimento perché ci credono lo capite questo no che avete una responsabilità che essere portavoce non significa soltanto mettere un amichetto a lavorare qualche altro amichetto di qua e candidare qualche altro amichetto di là essere portavoce significa avere delle responsabilità nei confronti di chi ci ha dato fiducia è chiaro lo capite questo o no anziché fare i partitini i partitini anti movimento all'interno fatte da persone che sono state elette con i voti al movimento mi fate un po di schifo oppure no no perché lo vorrei capire questo e non pensate che questa cosa io la dico nelle dirette poi finisce lì no no farò un bel lavoro su questo perché io certe cose non le accetto che qualcuno continui a parlare a nome del movimento anche se è uscito se si è fatto il suo partito e continui ad attaccare alcuni esponenti come buona fede alcuni portavoce del movimento che non hanno nulla di cui vergognarsi ebbene a me questi giochetti non mi piacciono e li state continuando qualcuno purtroppo li sta continuando a fare e si dovrebbe davvero vergognare saluto l'amico paolo orlando ma sull'inchiesta di report che atto che io non ho paura di nessuna domanda adesso rispondo a un po di vostre domande antonio violentano sull'inchiesta di report che ha toccato anche russo cosa diciamo beh io ho già parlato di questo caro antonio ho fatto notare che l'inchiesta di report disintegra distrugge e spiega come buona parte delle fondazioni non sono trasparenti hanno interessi economici diretti truccano le carte in tavola c'era d'alema che era nel consiglio di quella di quella fondazione report gli fa la domanda e scompare e lo stesso quella di de magistris e lo stesso quella di rotondi lo stesso ce n'erano tantissime adesso manco me le ricordo tutte quella del movimento 5 stelle e quella scusatemi di russo è perfettamente in regola con la legge perfettamente dice tutto dichiara tutto non ha quel tipo di conflitti di interessi non ha nulla che vada contro lo spazzacorrotti però report l'attaccata dicendo perché non dite come spendete i soldi per carità mi auguro che chi gestisce russo lo faccia ma non è un obbligo di legge tutti gli obblighi di legge sono stati rispettati dal da russo a differenza di quasi tutte le altre fondazioni di cui ha parlato quella puntata quindi è come dire c'è qualcuno che rispetta la legge però potrebbe fare di più va bene potrebbe fare di più ce ne sono tutti gli altri non la rispettano la legge a chi puntiamo il dito a chi rispetta la legge cioè russo o a tutti gli altri che non rispettano la legge perché pure questo è da capire fermo restando che sono ben felice se russo dichiarerà come spende i soldi anche io metto 300 euro al mese una piccola parte di tutti i soldi che restituisco la metto come tutti su russo perché mi piace che russo come dire implementi la nostra azione politica dal punto di vista informatico e non solo quindi io la metto volentieri per cui se mi fido ecco di russo dopodiché se diventerà ancora più trasparente sono solo che è felice ma russo rispetta la legge alla lettera a differenza di tutte le altre fondazioni di cui quella puntata di report ha parlato quindi un po singolare andare a fare le pulci tra tutte solo a quella che rispetta la legge non fare a quella che non la rispettano a quelle che non la rispettano scusate hai ragione sebastiano campione e ti saluto un minuto dopo abbiamo postato la risposta del movimento al report che ogni tanto canna vabbè ma report fa il suo lavoro ci mancherebbe altro è giustissimo che report indaghi su tutti e su tutto e su tutti non è che deve indagare su alcuni e su di meno ben venga sono trasparente ho tutto tutto quello che report vuole sapere da me sono qui disponibile a spiegarglielo e a dirglielo allora sono arrivati anche i secondi 600 euro sì sono arrivati a quasi tutti non a tutti ma quasi tutti ricordo che repo che la fondazione russo funziona con soldi che noi volontariamente decidiamo di versare quando invece quelle altre fondazioni hanno beni immobili donazioni di varie cose poco trasparenti noi versiamo queste somme nel modi e nei tempi e nelle quantità previste dalla legge rispettando la legge fino all'altro giorno fatto ho firmato il documento in cui spiegavo e lo mandavo anche al parlamento italiano perché la massi la trasparenza deve essere massima in cui spiegavo perché avevo restituito determinate somme a russo e al fondo con il quale abbiamo comprato ultimamente materiale medico per aiutare la protezione civile a combattere il coronavirus e in passato anche per tantissime altre cose come ricorderete il microcredito eccetera 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 allora grazie toni pezzarossa ci abbiamo un po di minuti per le vostre domande piano piano vedo che state andando anche a da scansi ma oggi non tanti va bene così a meno che scansi non so se chi se ne frega di scansi grande rispetto per scansi saluto a scansi voglio bene a scansi ma oggi sforeremo e quindi vedremo quanti di voi rimarranno fedeli a questa diretta che vi invito a condividere condividetela sulle vostre pagine condividetela sul vostro profilo sui gruppi la vogliamo fare diffondere questa informazione indipendente poi può essere fallace io posso sbagliare ma indipendente per fortuna sono indipendente da qualunque potentato economico antonino randazzo qualcosa sulla manifestazione che si sta svolgendo avanti a paramento siciliano tutti con la bandiera siciliana donne uomini che amano la sicilia io ripeto non credo mi auguro che quella che si svolga che si svolge davanti al paramento siciliano mantenga le distanze io non credo che oggi fosse un giorno giusto per fare una manifestazione proprio il giorno del 2 giugno prima di tutto perché domani diciamo finisce il lockdown buona parte delle delle misure di sicurezza saranno allentate proprio domani quindi bastava aspettare qualche giorno bastava farla nel fine settimana magari il sabato c'era anche più gente secondo perché un giorno che dovevamo dedicare alla festa della repubblica a celebrare l'importanza della repubblica terzo perché il fatto che si faccia una manifestazione quando ancora il paese non ha riaperto a mio parere è un grande errore perché è un cattivo esempio che si dà a tutti cioè voi avete rispettato le regole noi siamo noi siamo importanti siamo siamo potenti chi se ne frega delle regole cioè passa un messaggio totalmente totalmente deviante totalmente sbagliato totalmente diseducativo totalmente disfunzionale invece andava fatta se chiunque vuole fare una manifestazione andava fatta quando non c'erano più le restrizioni ripeto noi abbiamo rimandato persino i mercati buonanotte gli stati generali scusate mercati generali è un locale di catania che abbiamo amato in tantissimi gli stati generali li abbiamo rimandati per rispetto perché ci sarebbe urgenza di farlo diciamo la verità li abbiamo rimandati per rispetto per rispettare le regole e non ci sarebbe stato un assembramento del genere stati generali sono al chiuso avremmo potuto farli lo stesso distanziando magari le poltrone eccetera le abbiamo rimandati per rispetto di tutti gli italiani e abbiamo fatto bene secondo me e oggi mi devo sorbire quella cosa lì quindi non sono contento caro enza enza cara enza vollono come mai in campagna non è ancora arrivata la casa integrazione carenza e le abbiamo detto tante volte ci sono delle lentezze delle lungaggini di alcune regioni in particolare gravissime e purtroppo dobbiamo subirle non c'è niente da fare caro dino c'è una differenza abissale in sicilia chi protesta contro l'invasione della lega nella cultura siciliana sta abbandonando distanze con i mascherini allora sono contento grazie non ero al corrente di questa informazione chi è che me l'ha data pina pellegrino patrizia pellegrino sono sono contento che si rispetti la distanza mi permetto di dire che avrei preferito che si aspettasse ancora qualche giorno avrei manifestato se fossi stata in loro anche per una una buona causa lo avrei fatto attendendo ancora qualche giorno secondo me sarebbe stato più efficace il messaggio arrivano i soldi agli stagionali e meno male ma mia figlia non ha ancora ricevuto alcuna risposta cara franca langio chiaramente siccome con gli stagionali c'era stato un problema che abbiamo tentato di risolvere anche con ottimi risultati se non per tutti per una buona parte ci vuole un po più di tempo lo stesso dico ai lavoratori dello spettacolo inizialmente la regola riguardava 30 giorni lavorati per avere gli aiuti poi sono stati abbassati a 7 chi aveva fatto la domanda prima e la domanda era stata processata con il vecchio sistema non ha preso i soldi ma oggi ne ha diritto quindi li avrà automaticamente perché ci sarà una come si dice un ricalcolo una rivalutazione di tutte le domande pervenute se però ugualmente volete segnalare che la vostra posizione è cambiata perché cambiata la legge e che quindi sollecitare l'inps potete farlo andando sul sito dell'inps citando il numero di pratica della vostra richiesta e dicendo la legge è 7 giorni io ne ho fatti fai conto 20 prima legge era 30 quindi me l'avete bocciata adesso che 7 io ne ho fatti 20 ho diritto e questo vale anche per chi non ha fatto la domanda chiunque abbia lavorato almeno 7 giorni nel lavoratori ex emples lavoratori dello spettacolo ha diritto ai 600 euro più 600 quindi intanto poi forse avrà diritto anche ad altri quindi intanto cambiate fate la domanda se non l'avete fatta sollecitate la rivalutazione se non vi arrivano i soldi però molti amici miei ex colleghi sono arrivati quindi immagino che come dire che sia stato che siano state pagate una buona parte però non ancora tutte lo scorso anno salvini ha detto che non c'era nulla da festeggiare non lo scorso anno tante volte carmela ferraro giustamente ricorda che salvini per il 2 giugno aveva detto che non c'era nulla da festeggiare sta accanto a quella che dice patria 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 che imbarazzo va bene non ti preoccupare caro maurizio tanchi anabascia comunque ti ringrazio per la stima che hai nei miei confronti caro enzo abbagnano ne ho parlato all'inizio dei gili arancioni ma non perderei tempo perché fai pubblicità a una cosa così bassa così squallida così scadente e parlare ne fa soltanto pubblicità ciao stefania portapurpetta serena sibilia appena si potrà manifesteremo a favore di conto e del governo benissimo quella è una manifestazione da fare anche per far capire a chi ha nella testa magari di far cadere il governo se qualcuno di voi ha nella testa di far cadere il governo sappia che il popolo oggi sta con conte che il gradimento del presidente conte del governo da lui presieduto è altissimo e quindi non fate manovre di palazzo che storicamente all'italia le manovre di palazzo hanno fatto soltanto male abbiate la compiacenza di ascoltare quello che dice la gente allora sono falsi agnese nardini dina de lucia mio figlia ecco a mia figlia il mio compagno sono arrivati i bonus mi fa moltissimo piacere sono arrivati a quasi tutti però ancora non a tutti mancano 600 mila sono state pagate mi pare quattro milioni e mezzo ne mancano ancora 600 mila alcune delle quali perché erano compilate male alcune sono state rispinte eccetera grazie rosa a breve ci saluteremo sì maria sambataro si mette giustamente la saluto a rispondere ad alcuni troll che arrivano su questa pagina fox farberry grazie grazie al bar perry dino agriturismi chiusi per noi niente bonus a maggio come faremo che sono chiusi rita rosa di benedetto scrivimi in privato su questa situazione perché per bnb è ancora più complicato perché bnb in realtà come sapete sono delle case private dove uno volendo può affittare con grandi limitazioni una parte della casa una stanza eccetera e proprio perché ci sono grandi limitazioni ci sono anche grandi agevolazioni fiscali questo chiaramente si scontra con quando c'è una situazione del genere con il discorso degli aiuti perché come dire hai dei vantaggi poi quando c'è una situazione del genere potresti averne anche degli svantaggi spero che si possa si possano aiutare tutti naturalmente ho cercato di battermi per quelli che erano stati un po messi da parte come gli stagionali saluto maurizio cammilleri che fa sempre le sue battute sarcastiche durante le mie dirette cara loredana argino che chi ha aperto una partita iva forfettare eccetera temo di no però scrivimi perché se vuoi ti faccio analizzare la tua situazione da uno dei miei collaboratori validissimi che ringrazio sempre grazie aida napolitano sono d'accordo con te ho grandissima stima del presidente conte anche di mattarella grazie anche a francesca fischetto sono d'accordo anche con te questo sacro cuore di maria e rosario non è un messaggio costante alle mafie tanto devote cosa ne pensi no riccardo borsini messaggi alle mafie purtroppo ci sono e sono altri per esempio il fatto che né la lega né fratelli d'italia né forza italia hanno mai espulso i loro esponenti indagati per mafia o per reati di grave per accuse di gravissime legate alla criminalità oggi sul fatto quotidiano di oggi andatelo a vedere sul fatto quotidiano di oggi c'è un'intervista a un certo pittelli che era un parlamentare del centro destra di forza italia in particolare dove si dice tranquillamente che questo faceva riunioni con personaggi molto vicini all'andrangheta calabrese al di là del contenuto delle intercettazioni ma il semplice fatto che un ex parlamentare va a parlare con dei boss ma dico signori miei ma dove dobbiamo arrivare cioè come possiamo andare avanti in questo modo io me lo chiedo davvero perché poi sembra che qualcuno come dire abbia voglia giocare voglia giocare a fare il cattivo voglia giocare a fare lo scoop no non è così viviamo davvero in questo paese viviamo davvero in questo paese cioè quello è il problema che viviamo davvero in un paese dove c'è un ex parlamentare che ha fatto credo tre o quattro legislature con il centro destra che va tranquillamente a parlare dei boss e poi parla di tremonti parla male di tremonti ma questi sono fatti loro però il fatto che tu ha esponente politico estente istituzionale vai a parlare con dei boss cioè in qualunque altro paese sarebbe la fine tutti quei partiti si scuserebbero quindi alla domanda di riccardo borsini non penso che il sacro cuore il sacro cuore di maria il crocifissio le cose sono fatte per accattivarsi le simpatie di quelle persone che credono in dio che sono cattoliche e che hanno una difesa molto bassa rispetto alle fanfaluche rispetto alle bugie alle bufale agli atteggiamenti strumentali perché è chiaro è chiaro che quegli atteggiamenti sono strumentali lasciamo stare il fatto che salvini è pluriseparato c'ha figli di qua figli di là sono fatti i suoi ed è libero di fare tutto quello che vuole ci mancherebbe altro il problema è l'azione politica qualcuno che attacca i meridionali che attacca quelli che attacca quegli altri che non ha la minima come dire attitudine alla solidarietà che non butta fuori i mafiosi che non butta che come dire che a cui non frega nulla dei più deboli uno che ragiona così non ha niente a che fare nella sua azione politica con il cristiane con la parola di cristo quantomeno e invece salvini si fa si bea si si vanta lancia queste sue cose legate alla sua fede cristiana proprio perché per accattivarsi le simpatie dei cristiani dei cattolici che in italia sono un numero enorme soprattutto le persone più anziane magari sono più indifese e quindi si fanno un po abbindolare da questi gesti dal crocifisso dalla madonna dalla madonnina e c'è dal rosario eccetera eccetera il problema è gesù cristo cosa avrebbe detto della situazione odierna cosa avrebbe detto qualcuno che c'ha dei malavitosi e se li tiene nel partito queste sono le domande che ci dobbiamo fare non tanto il problema della madonnina del rosario del crocifisso perché ognuno utilizza anche gli arredi sacri o le icone sacre o che vuole il linguaggio che vuole eccetera dovrebbe avere rispetto di tutti ecco rispetto sì questo forse manca vediamo chi altro c'ha ha fatto ragazzi siete tantissimi chiedo scusa subito a tutti quelli a cui non ho risposto oggi eravamo particolarmente tanti siamo arrivati ad essere 3.800 mi fa moltissimo piacere salvini in diretta era 6.000 per cui siamo quasi quanto lui benché io abbia poco più di 100.000 like e salvini ne ha credo 4-5 milioni poi c'è paragone non so se l'avete visto paragone è quello che cresce di più sui social perché è quello che spende di più ha speso circa 10.000 euro al mese di pubblicità su facebook paragone capite? noi restituiamo i soldi Gianluigi Paragone che è stato eletto con noi che fa con la testa così spende su facebook per avere più fan io non spendo ho speso qualcosa in campagna elettorale per parlare del nostro programma per parlare del futuro a voi con voi in campagna elettorale peraltro cosa autorizzata dal gruppo centrale di comunicazione del movimento 5 stelle perché bisognava chiedere l'autorizzazione cosa che io ho regolarmente fatto ecco invece paragone oggi spende circa 10.000 euro al mese forse anche di più per farsi pubblicità e così magari la sua pagina sale c'ha più like e lui si sente più forte forse vuole fare anche lui un partitino e torna all'ovile dei vecchi amici che lo hanno messo a prendere soldi pubblici in Rai e alla Padania il quotidiano la Padania grazie alla sua fede leghista forse è quello il suo posto più adatto perché davvero uno come Paragone è stato uno dei tanti infiltrati del movimento e ha fatto solo danni e continua a farli perché porta altra gente a infiltrarsi e a cercare di creare forze politiche alternative che sono anti movimento e questo lo si fa con molta costanza lo fanno nelle chat lo fanno su nelle pagine social lo fanno scientificamente c'è qualcuno che sta lavorando per distruggere il movimento lo dimostra quotidianamente e ha anche la faccia di bronzo per non dire altro del dire ma io sono il vero grillino io porto i valori i valori non mi ci riconosco più quindi mi faccio il mio partitino cosa che è esattamente l'opposto di quella che delle regole dello statuto del codice etico del regolamento che firmiamo quando accettiamo una candidatura nel movimento 5 stelle Paragone dove li prende tutti questi soldi e penso che ce li abbia fa lo stipendio da parlamentare non so se restituisce ancora immagino di no magari si fa una cosa una pantomima ha lavorato con libero con la padanza direttore della padania ha lavorato in rai si è sempre saputo muovere bene evidentemente è stata una grande delusione perché non vi nego che anch'io ho creduto nella sua buona fede all'inizio poi da mesi non ci credo più mentre qualcun altro continua a crederci a dire giù le mani da Paragone quanto è bravo Paragone no io ho capito da tempo che era un paraculo Paragone e più che altro paraculo ed era infiltrato nel movimento perché ha valori totalmente distanti da quelli del movimento e soprattutto il primo valore è quello dell'onestà intellettuale della sincerità mi pare proprio che lui non abbia la minima la minima la minima attitudine alla sincerità Dodi bene a Giordano mi avete scritto non mi ricordo più mi sto confondendo anch'io grazie terrimiglionico volevo chiudere facendo di ascoltare una cosa vediamo se ci riusciamo nel frattempo rispondo a qualche altra domanda Cristina Zori non distruggeranno niente sono sfigati beh non distruggeranno certo la forza del movimento 5 stelle però dei danni li fanno sinceramente purtroppo grazie a Giusy Kubaka mi fa molto piacere che ci sia tutta questa interazione che già nonostante si sia scansi ormai da 20 minuti siamo rimasti 1800 eravamo molti di più ma insomma va bene anche così perché chiudiamo in chiusura con questo zoccolo duro in merito all'amministrazione di piazza Massimiliano Fiorella per piacere aspetta se dovessero chiedere ancora fateli fare qualunque cosa anche vendetti santo al costeo fateli fare così non romperanno più le scatole no io innanzitutto io non ho alcun potere né di dire sì né di dire no perché sono poteri che aspettano al prefetto al ministero dell'interno eccetera per motivi di sicurezza in Italia si può sempre manifestare non si può manifestare solo se c'è a repentaglio la sicurezza il problema è che oggi c'è a repentaglio la sicurezza perché queste persone che si sono assembrate potrebbero far partire un nuovo focolaio di contagi a Roma città che peraltro non solo a Roma perché sono andati anche da altre città torneranno nelle loro città e magari portano il virus alla loro famiglia e riparte il contagio beh scusatemi ma a me questo sembra davvero vergognoso lo continuo a dire Domenico Barretta dice chi lascia il Movimento 5 Stelle deve lasciare la politica no deve lasciare la poltrona se vuole continuare a fare politica con una sua forza o in un'altra forza lo faccia ma senza la poltrona sotto il culo ragazzi è il solito discorso senza la poltrona sotto il culo hai ragione Antonio Gussio hai perfettamente ragione vediamo volevo farvi ascoltare una cosa ma temo che ci metteremo un po di tempo Maurizio Camilleri e sì la penso come te Maurizio Michela Palermo paura che faranno cadere il governo noi ci opporremo in tutti i modi alla caduta del governo del momento del governo più amato degli ultimi decenni del presidente del consiglio con con altissimo gradimento e soprattutto che è un uomo di stato che sta dimostrando di essere un uomo di stato ciao Rosi Conza grazie vediamo se c'è qualche altra domanda fatemela se la volete fare questi assemblamenti Giulia Puddu ne abbiamo parlato purtroppo con grandissimo dispiacere ah c'è qualcuno che mi fa notare che sono state mandate delle immagini del 25 aprile come alzo perché la tattica di questi qui quando vengono beccati con le mani nella marmelata dire è una tattica da asilo nido e allora lui maestra io sono stato cattivo va bene e allora lui perché questo fanno questi cosiddetti sedicenti leader e hanno mandato delle immagini della festa il 25 aprile dove c'erano ci sarebbero state assembramenti allora prima di tutto quella festa lì non io ho detto nelle mie dirette che è stato sbagliatissimo fare qualunque tipo di assembramento il 25 aprile l'ho detto e lo ribadisco perché è stato sbagliatissimo per chi lo ha fatto secondo mi risulta che non ci siano state manifestazioni politiche per la prima volta peraltro da decenni che solo in alcune piccole zone c'è qualcuno che ha fatto un corteo sempre con mascherine tutto ma troppo vicini e comunque era sbagliato anche quello non è che sia sbagliato in 100 il 25 aprile potete sbagliare in 10.000 voi vantandovi pure e poi avete un ruolo istituzionale non mi risulta che nessun leader di nessuna forza politica abbia nemmeno pensato scusate ho trovato la cosa che volevo farvi sentire non mi risulta che nessun leader di nessuna forza politica abbia nemmeno pensato di fare un una manifestazione un assembramento il 25 aprile e infatti la manifestazione che si fa tutti gli anni a roma non si è fatta non si è fatta ed era giusto che non si facesse allora concludiamo con la canzone quella quale abbiamo iniziato però in una versione un po particolare ve la faccio sentire per un po e poi la commentiamo scusate se sposto un attimo il telefono ma se no non riesco a sentite vediamo aspettate vediamo se parte per bene aspettatemi online non non ci siete sempre ok adesso continui non disperare se ne fa tempo risponde a stefano capponi ma davide parenti che tipo è non è una domanda che non c'entra niente no non c'entra niente davide parenti è una persona molto brava a fare il suo mestiere ha un carattere molto forte è uno molto come dire deciso risoluto infatti ha inventato le iene e dopo 22 anni mi pare il programma è ancora lì e fa degli ottimi ascolti dopodiché con lui come con tutti ho avuto lo ritengo un amico lo ritengo una persona alla quale sono molto riconoscente delle volte non sono d'accordo con alcune cose alcune scelte che fanno le iene ma non pensate soltanto scelte politiche delle volte anche semplicemente a scelte estetiche ma voglio dire chi vince ha ragione mi pare che dal punto di vista del servizio che ha fatto per l'italia e dei degli ascolti che fa mi pare che davide parenti abbia pienamente ragione proviamo a farvi sentire questa canzone mio fratello è figlio unico vediamo se parte c'è qualche problemino aspettate proviamo eccoci eccola lì si è fermata naturalmente mi auguro che mi sentiate e adesso partirà davvero la canzone vai abbassiamo il volume abbassiamo il volume chi volesse ascoltarla può farlo andandola a cercare fra i miei video nella mia pagina questo era il rino gaetano day del 2017 tre anni fa ho avuto l'onore di suonare e cantare con la rino gaetano band mi sono divertito tantissimo adoro rino gaetano lo rimpiango ma delle volte quando i grandi se ne vanno giovani da un lato è triste dobbiamo rimpiangere da un altro lato dobbiamo essere felici che ci siano stati un grandissimo genio proprio del sud italia di crotone che ha inventato un genere perché poi è stato veramente lungimirante alcune delle sue canzoni sono molto attuali ancora adesso no mio fratello è figlio unico per esempio non te regga più ce ne sono tante che sono ancora guardate quanta guardate quanta gente c'era c'erano 30.000 spettatori è stato molto emozionante per me cantare davanti a un pubblico di 30.000 spettatori ecco qua è stato è stata una bella emozione mi sono divertito mi sono è stato per me un onore anche presentare quella serata oggi si è fatto il rino gaetano day ma per rispetto delle regole si è fatto virtuale si è fatto con una diretta facebook con tanti artisti bravissimi che si sono che si sono connessi e che hanno dato spettacolo che hanno suonato credo che sia ancora in corso fra l'altro a me mi fa imbestialire che persino la celebrazione di rino gaetano è stata diciamo è stata fatta in maniera diversa proprio per per evitare gli assembramenti la celebrazione della morte di rino gaetano è stata fatta in maniera diversa proprio per evitare assembramenti e poi qualche cretino che è rappresentante istituzionale ha immaginato di fare una manifestazione proprio oggi e ha combinato un grande danno speriamo che non ci siano conseguenze purtroppo lo sapremo non subito ma nelle prossime settimane mi auguro che non ci sia una ripartenza del virus noi ci vediamo domani mi raccomando energia in alto i cuori non molliamo mai quando si ha la coscienza pulita e si portano avanti i valori etici di alto livello non bisogna mai 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 arrendersi qualunque cosa ci accada intorno un abbraccio a tutti voi a domani